ciao a tutti ragazzi siamo a tiri lemo e benvenuti in questo nuovo video reaction oggi sono a fare la reaction a toro toro che è il nuovo film di cacco zalone che dovrebbe uscire nel nuovo anno 2020 gennaio credo e quindi visto che lo stanno spubblicizzando veramente tanto secondo me merita e quindi voglio farci una reaction siete pronti via che cazzarone devo dire che mi piacciono veramente tanto i suoi film è molto simpatico mi fa ridere tra l'altro ne ha parlato anche al telegiornale e un'intervista che ha fatto su di lui quindi perché non farlo mi sono messo da parte qualche trailer che faccia tra la toro toro wow mette veramente tante secondo me a mio parere è veramente bravo come attore dovrebbe riuscire al cinema dovrebbe uscire penso nel nuovo anno comunque fine anno no penso nel nuovo anno credo ho tolto il volume tra l'altro ragazzi è da qualche video reaction che sto provando a fare anche le grafiche del video quindi se vi piace anche perché l'ho provato cioè ho beccato un copyright su un video che vedrete prossimamente e allora ho provato a fare una come si dice una nuova meccanica creando anche una tra virgolette grafica che vedrete anche con con questo trailer così ho meno probabilità di beccare il copyright fatemi sapere se preferite a vecchia maniera o a nuova maniera con la grafica insomma l'unica pecca che c'è il video più piccolo c'è il video più piccolo perché appunto per copyright però secondo me è veramente ci metto più tempo è però è un dia carina non sa bene la prima volta allora perché non farlo ancora wow acqua ancora uguale sì sì ancora uguale lo stesso trailer credo fatemi vedere sì ragazzi mai ne avevo visto un altro trailer ne avevo che non ero uguale provo ancora davanti ecco ah cos'è sta roba ma sicuramente spiega il film perché è sempre lo stesso scatole siamo a cinque minuti comunque devo dire dai che merito merito la pubblicità verrà tagliata ovviamente perché sì credo ci sono altri due le esce un ragazzo che vorrei fare che sono fin di giovanni che non mi sa che non è uscito nemmeno quello credo questa qui l'abbiamo vista prima bene credo forse va beh qua viene spiegato il film se io tolgo il rumore per coprire sempre nuova scena oh mamma va bene abbiamo quasi finito si è quasi dai che spiega spiega come è stato il film come è stato girarlo e tutte quelle cose qui niente ragazzi inizio salutarli anche perché qua non penso che sia molto interessante il trailer l'abbiamo visto dovrebbe uscire fatemi sapere se non date a vedere e niente ciao ragazzi ci vediamo qua su video grazie a tutti grazie a tutti